La settimana prossima il Consiglio regionale dovrebbe chiudere la partita della riforma della rete ospedaliera con l'approvazione degli ultimi sei capitoli, ma non è scontato che tutto vada liscio anche perché le fibrillazioni nella maggioranza di centro-sinistra stanno aumentando col passare delle settimane e l'avvicinarsi alla scadenza della legislatura. Un sintomo che ci siano dei problemi è stato dato dalla votazione dell'emendamento dell'opposizione promosso da Emilio Usula dei Rosso Mori per spostare alla fine della discussione della legge l'esame della situazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro. In questo caso la maggioranza è andata sotto, nonostante il parere contrario all'emendamento del relatore e dell'assessore alla sanità. Ma i problemi stanno nascendo anche sul fronte degli accantonamenti dopo l'incontro tra Regione e Governo a Roma, dove si è chiesto una riduzione dei 684 milioni previsti per quest'anno. Il partito dei Sardi ieri ha attaccato frontalmente la giunta Piliaru, criticando nell'operato in questo campo, a partire dall'accordo firmato da Paci e Padoan con il ritiro dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Argomenti che hanno in qualche modo riecheggiato i rilievi dell'opposizione, tanto che il PD ha risposto a muso duro richiamando all'unità e alla coesione e alla coalizione. Ma i prossimi giorni diranno se la maggioranza di centro-sinistra ha ancora margini per poter portare a termine la legislatura. L'avvicinarsi alle elezioni politiche sta già portando i partiti a stringere alleanze e a guardare la prossima tornata elettorale. Bisognerà valutare se preparrà il senso di appartenenza al centro-sinistra oppure la voglia di guardare a nuove esperienze politiche in vista delle elezioni regionali.